E' ricoverato in rianimazione a regina Margherita di Torino, in prognosi riservata, il bimbo investito ieri sera a Varso. Minacciava gli anziani genitori per ottenere soldi, denunciato dai carabinieri un 45enne di Monte Crestese. Firmato in Regione Piemonte l'accordo di programma per lo sviluppo delle sciovie di Macugnaga, il sindaco, data storica. Assemblea del Consorzio Rifiuti, rimandato l'aumento delle tariffe, si è al ricorso al TAR per Prato Michelarcio. Una festa per tutta la cittadinanza, sabato prossimo a Gravellona per l'inaugurazione del nuovo asilo della Sala Polifunzionale. Quarta edizione della Rosa Ski Raid, vittoria di Pasini davanti ad Antonioni, in campo maschile della statunitense Anderson. Ben ritrovati dalla redazione di Vicia Notizie in apertura di giornale. Le notizie che ci arrivano dall'ospedale Regina Margherita di Torino, dove è ricoverato in prognosi riservata e in rianimazione il piccolo che è stato investito ieri sera a Varso. Le sue condizioni sono stabili. È in prognosi riservata all'ospedale Regina Margherita di Torino, dove è giunto nella notte il bimbo di dieci anni travolto da un'auto ieri sera a Varso. Secondo i primi riscontri dei carabinieri della stazione di Varso, giunti immediatamente sul posto, il piccolo sarebbe sbucato improvvisamente sulla ex statale del Sempione per riprendere un pallone. Erano le 18.30. L'auto che arrivava, condotta da una donna, non ha potuto evitarlo. È immediatamente scattato l'allarme. L'ambulanza medicalizzata del 118, dopo le prime cure, ha trasportato il piccolo al country pediatrico dell'ospedale San Biagio di Domodossola. I medici, dopo un'attacca, hanno deciso di trasferirlo in elicottero a Torino, dove è ricoverato nel reparto di rianimazione. Ha un trauma cranico e facciale. Tanti messaggi di solidarietà e vicinanza al piccolo di origini marocchine giunti sul web. La speranza è che possa essere al più presto dichiarato fuori pericolo. In manette gli autori della rapina del 3 dicembre scorso alle poste di Nonio. Sono quattro le ordinanze di custodia cautelare in carcere del GIP di Verbagna, eseguite dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale del VCO e a Napoli. I dettagli dell'operazione saranno resi noti domani mattina nel corso di una conferenza stampa. Nel pomeriggio di ieri a Castelletto Ticino, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Arona hanno tratto in arresto un uomo di origini marocchine, MM classe 1980, residente a Nebbiuno, pregiudicato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il soggetto, fermo a bordo della propria auto, in un primo momento ha tentato di darsi alla fuga e di disfarsi di un pacco in suo possesso, gettandolo dall'auto in corsa. All'interno della scatola, recuperata poi dai militari, sono stati rinvenuti diversi panetti di hashish per un peso totale di circa un chilogrammo. Un successivo controllo della vettura portava al rinvenimento di diversi capi di vestiario firmato, orologi e prodotti di cosmetica per i quali sono in atto accertamenti volti a verificarne la provenienza. Minacciava i genitori per avere soldi, è stato denunciato dai carabinieri domesi un uomo di Montecrestese. I militari sono impegnati anche nel contrasto della guida in stato di ebrezza. Minacciava gli anziani genitori, essorcendo loro denaro. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Domodostola sono intervenuti denunciando un 45enne di Montecrestese, già noto e più volte segnalato per i comportamenti aggressivi nei confronti dei familiari. In passato era stato anche destinatario di misure restrittive da parte dell'autorità giudiziaria. Non gli era infatti permesso avvicinarsi alla casa dei genitori. Ignorando la misura è andato di nuovo a chiedere soldi alla coppia di anziani, minacciando ritorsioni e maltrattamenti. I genitori hanno chiesto aiuto al 112. La pattuglia si è precipitata sul posto, allontanando il 45enne e rassicurando le vittime. Rassalta intanto l'attenzione dei carabinieri sulla guida in stato di ebrezza. Sono state tre le persone denunciate nei giorni scorsi. Aveva un tasso ben otto volte superiore al limite consentito, di poco inferiore ai 4 grammi per litro. Il 39enne di Pieve Vergonte, M.M., le sue iniziali, che giovedì sera si è schiantato alla guida di una Fiat 500X, che aveva poco prima noleggiato, contro il garrei dello svincolo della superstrada Villa Dossola. L'auto viaggiava in direzione Gravellona. Ha rimbalzato contro il garreile e si è fermata poco prima dello sparti traffico. Le conseguenze sarebbero potute essere ben peggiori. Immediato il ritiro della patente da parte dei militari della stazione di Villa Dossola e del nucleo radiomobile di Domodossola. Era ubriaco con 2,16 grammi per litro. Quattro volte il limite consentito. Anche il 32enne di Malesco, M.P., fermato dai carabinieri di Santa Maria Maggiore. Per lui, oltre alla denuncia, il ritiro della patente e sequestro del mezzo ai fini della confisca. A Masera, invece, i militari del nucleo operativo radiomobile sono intervenuti per un incidente autonomo che ha avuto per protagonista un 24enne residente a Torino, M.D., le sue iniziali. Il giovane aveva un tasso alcolico di 1,9 grammi per litro. Anche per lui, oltre alla denuncia, ha scattato il ritiro della patente. Attività straordinaria di controllo del territorio da parte del commissariato di Omenia con l'ausilio della stradale. Nella notte tra sabato e domenica sono stati identificati una sessantina di giovani nei pressi di locali pubblici del capoluogo Cusiano, tutti in regola agli esercenti, anche nel rispetto degli orari di chiusura. Qualche giovane è stato solamente invitato a gettare bottiglie vuote lasciate all'esterno dei bar. Sotto il ponte del Toce, a Gravellona, nel classico punto di controllo, sono stati fermati 23 veicoli. Il bilancio dei controlli è di quattro patenti ritirate, due denunciate alla Procura della Repubblica, due segnalati alla Prefettura per guida in stato di ebrezza. La polizia di frontiera di Domodossola ha arrestato uno straniero che viaggiava con documenti falsificati. Si tratta di un ivoriano di 28 anni, quando gli uomini del commissario capo Paolo Maisto, nella notte del 17 marzo, a bordo di un treno diretto a Parigi, gli hanno chiesto i documenti, ha mostrato un titolo di viaggio italiano per stranieri e valido per l'espatrio che era stato contraffatto nell'anno di scadenza. Voltiamo pagina. Una data storica l'ha definita il sindaco, firmato in regione l'accordo di programma per lo sviluppo degli impianti sciistici di Macugnaga. È stato firmato ieri in regione a Torino con gli enti interessati l'accordo di programma sullo sviluppo della stazione sciistica di Macugnaga prevede un investimento di 7,5 milioni di euro da parte della regione Piemonte. Il sindaco Stefano Corsi parla di una data storica per Macugnaga e di un accordo per il completamento del sistema sciistico della Valsesia comprensorio del Monterosa-Lagna, Alpe di Mera e Macugnaga. Il primo step, spiega il primo cittadino, riguarderà il rifacimento dell'impianto di risalita Pecetto-Burchi-Belvedere della società Monterosa 2000, a cui l'impianto è stato conferito. Nell'ottica di tale accordo, il comune di Macugnaga acquisterà quote del capitale sociale della società e procederà alla realizzazione delle opere indispensabili di manutenzione delle funivie Staffa Bill e Bill Montemoro. Corsi aggiunge, tale risultato è frutto di un lavoro collegiale fortemente voluto dall'amministrazione, collaborando con la Commissione Consigliare Impianti e con la determinazione di fare il bene di Macugnaga. Un risultato conclude che senza la volontà politica e personale del Vice Presidente regionale Reschigna non si sarebbe potuto avverare. Con questo accordo abbiamo mantenuto un impegno preso il commento del citato Vice Presidente Reschigna, un investimento significativo che riguarda la montagna e lo sviluppo del turismo montano in un'area che aspettava da tanti anni l'intervento regionale. L'accordo assume una particolare importanza perché avvia un percorso di promozione e di rafforzamento di tutte le stazioni sciistiche attorno al Monte Rosa e guardando anche alla prospettiva futura del rapporto con la Svizzera. In questo modo l'area di Macugnaga e il Monte Rosa possono diventare uno tra i poli sciistici strategici del Piemonte. Un'altra notizia che arriva da Torino nel bilancio di previsione della Regione Piemonte per il 2019 è stato approvato un articolo che autorizza la Giunta regionale a definire fino a un importo massimo di 9 milioni di euro il contenzioso con la provincia del Verbano Cusiossola. È la concretizzazione di un impegno preso a salvaguardia della difficile situazione finanziaria in cui versa l'amministrazione provinciale che rischia di ribaltarsi su realtà economiche e sociali diffuse sul territorio del VCO. Il commento di Reschigna. Ed ora l'assemblea del Consorzio. Rifiuti che si è riunita nel tardo pomeriggio di ieri a Verbania. Rimandato l'aumento delle tariffe, è eletto il nuovo CDA e via libera la richiesta di ricorso al TARA CONSER VCO su Prato Michelaccio proposta dal Comune di Verbania. L'assemblea dei comuni del Consorzio Rifiuti VCO che si è riunita nel tardo pomeriggio di ieri alla Casa della Resistenza di Fondoto ci ha rimandato l'aumento delle tariffe sui rifiuti. La scelta è stata quella di avere, prima di definire il ritocco verso l'alto, il budget definitivo approvato da CONSER VCO. Da qui la richiesta di convocazione urgente dell'assemblea di quest'ultimo che dovrebbe riunirsi tra il 29 marzo e il 2 aprile. L'ipotesi era in media di un più 5,3%. Dopo questo step di CONSER la nuova riunione del Consorzio Rifiuti affronta però di un budget a quel punto definitivo sul quale ragionare per definire la nuova liquota della tassa rifiuti. A maggioranza si è stenuto Domodossola e i comuni hanno dato il via libera alla proposta di Verbania dopo il diniego della provincia al proseguimento dello stoccaggio rifiuti nell'area di Prato Michelaccio. Verrà chiesto a CONSER VCO di ricorrere al TAR contro il provvedimento. Una decisione presa nonostante un parere proveritate richiesto ad un professionista eletto in assemblea che lasciava poco margine a un esito positivo del ricorso assenza di margini rimarcato dal rappresentante di Domodossola Daniele Folino. Da più parti è stato evidenziato un parere frettoloso e sommario nel quale sfugge la visione dinamica della norma PAI ha sottolineato l'assessore Verbanese Alba il primo cittadino di Ornavasto Cigala Fulgose ha parlato di ultima chance per salvare quell'area di mantenere in piedi una speranza. Quello di Omegna Marchioni ha evidenziato il rapporto costi-benefici e la necessità di approfondire andando oltre questo parere dal sindaco cannobiese Albertella la proposta di chiedere a CONSER VCO un piano A e un piano B relativo a un futuro con essenza la possibilità di stoccaggio a Prato Michelaccio. Il ricorso al TAR costerà 11.000 euro e porterà nel frattempo alla sospensione del provvedimento facendo guadagnare tempo. Gianni Morandi, sindaco di Gravellona ha sottolineato come il problema sia solo un cavillo giuridico in una zona che non presenta rischi. L'assemblea del consorzio rifiuti poi ha eletto il nuovo CDA lo presiede l'assessore omegnese Francesco Perrone con lui Alessandro Rondinelli Omegna, Giulio Aceti, Gignese Stefano Cittadino, Villa Dossole e Flabia Filippi, Belgirate Siamo al nuovo piano dei Deors di Omegna che sta per approdare in Consiglio Comunale che darà omogeneità alle strutture per migliorare l'aspetto della città e sarà poi immediatamente eseguibile. Approda in Consiglio Comunale venerdì il piano dei Deors e quali sono le novità? Andiamo a mettere un po' di regole su quelli che sono i Deors della città in particolare abbiamo preso in considerazione le aree del centro quindi quelle sul lago le vie centrali del centro storico e la piazza Beltrami andiamo a definire proprio le tipologie di come devono essere fatti i Deors come devono essere strutturate a seconda delle singole aree del centro storico. Cambia zona per zona oppure ci sarà qualcosa che è comune diciamo un po' a tutti? Ci sarà una parte generale che riguarda tutta la città e poi nelle singole zone vengono indicate delle specifiche che servono a valorizzare al meglio proprio le attività e le stesse piazze piuttosto che le vie. Architetto esattamente però cosa cambierà e come cambieranno i Deors di Omegna? Beh innanzitutto il piano darà un'immagine coordinata a tutti i Deors ci saranno alcuni accenti ad esempio piazza Beltrami darà continuità ai materiali usati nella riqualificazione della piazza che sono corten, legno e cemento su piazza Salera per esempio che è il salotto urbano ci saranno delle tipologie che verranno usate anche sul Lungolago che è la tipologia del Deors chiuso dove per Deors chiuso intendiamo una copertura una struttura molto leggera molto fatta da elementi sottili con la possibilità di chiudere con delle pareti vetrate completamente vetrate in generale si punta proprio a un'immagine coordinata quindi la scelta dei colori degli ombrelloni saranno all'interno di una gamma di una gamma di colori chiari che vanno dal bianco alle cru avorio beige si spingerà ad avere dei tavolini e delle sedie coordinate sabato la cerimonia di inaugurazione del nuovo asilo della nuova sala polifunzionale di Gravellonatoce vuole essere una grande festa per tutta la cittadinanza e naturalmente la cittadinanza è invitata in programma momenti di approfondimento poi c'è pompieropoli porte aperte al nido spettacoli e di intrattenimento e dolce finale con il taglio della torta del nido Gravellonatoce si prepara a una grande festa aperta a tutta la cittadinanza l'appuntamento è per sabato pomeriggio con il taglio del nastro del nuovo asilo comunale e della sala polifunzionale Buon Pastore non è soltanto l'inaugurazione dell'asilo che è già in uso ma è l'inaugurazione di tutto quel lavoro che comprende quindi la sala polifunzionale comprende una ristrutturazione urbanistica importante di una zona proprio centrale di Gravellona dove è stata fatta una bonifica ed è stato completamente trasformata tutta quell'area in questi giorni stanno freneticamente finendo i lavori di sistemazione della piazza esterna dei marciapiedi e quindi quel giorno vorremmo che fosse davvero una festa una festa per la città di Gravellona e abbiamo cercato di coinvolgere diverse associazioni e speriamo anche di coinvolgere la cittadinanza la scelta dell'amministrazione comunale è stata quella di andare a riqualificare questa parte di centro cittadino con un edificio eco-friendly trattasi di edilizia a consumo ed emissioni quasi nulle che impiega solo fonti rinnovabili perché è con l'esempio che si insegna alle future generazioni a prendersi cura del pianeta la sala polifunzionale al primo piano poi è un nuovo luogo di incontro per la comunità per le attività legate all'associazionismo ed extrascolastiche questa ospiterà venerdì sera un prologo dei festeggiamenti alle 21 incontro sul tema a un paese per giovani in un'epoca che non ama troppo i giovani con Paolo Bianchini dell'università di Torino anche sabato non mancheranno momenti di approfondimento la mattina alle 9 dedicato alla progettazione di edifici sostenibili il pomeriggio alle 14 e 30 si parlerà di energia e clima alle 16 conferenza stampa aperta al pubblico durante la quale verranno illustrati i lavori eseguiti la festa sabato comincia alle 14 e 30 con pompieropoli in collaborazione con i vigili del fuoco con giochi gonfiabili spettacolo di magia intrattenimento musicale con il corpo musicale Santa Cecilia e le visite guidate al nuovo asilo alle 17 i più golosi non potranno mancare al taglio della torta del nido realizzata dagli allievi di viceformazione con l'associazione pasticceri commercianti ben pensanti e con gli studenti del Maggia di Stresa Cannobbio ha presentato i suoi eventi estivi come sempre molto numerosi tra spettacoli arte e sport si comincia con i mercatini di Pasqua ma ci sono anche le mostre a Palazzo Parasi la prima sarà inaugurata sabato 30 marzo Andrea Calderoni Cannobbio si conferma campione di eventi per l'estate quanti saranno e quali saranno le novità anche quest'anno 120% serate partiamo con la Pasqua e arriviamo fino a ottobre quindi l'autunno perché Cannobbio lo si vive tutto l'anno non soltanto nel periodo estivo ora presentiamo questa prima grande rassegna di eventi che partiranno con il mercatino di primavera della Pasqua per poi proseguire con gli eventi estivi tutte le serate sparse in tutto il lungolago e nel centro storico del paese le mostre al Parasio e momenti anche legati allo sport all'acqua come la grande nuotata in parallelo con il lungolago dalle darsene fino al Lido la regata della Bricolla quindi sport eventi divertimento svago perché con l'obiettivo di far sentire in vacanza anche i nostri cittadini oggi nei Deora lungo la piazza ci sono molti stranieri questo è un buon segno noi speriamo di ripetere le stagioni precedenti sia l'anno scorso che il 2017 abbiamo avuto abbiamo superato le 300.000 presenze ci stiamo preparando per accogliere non solo i turisti che aspettiamo numerosi perché sono il volano della nostra economia ma per far divertire far passare una bella primavera una bella estate anche ai nostri cittadini ai residenti e agli amici della provincia del VCO e ora ci spostiamo a Premosello dove domenica scorsa è andata in scena la giornata ecologica con ben 120 140 persone coinvolte tra grandi e piccoli non sono mancati una lezione dedicata alla raccolta differenziata e un buon pranzo per chi ha lavorato è un appuntamento che ormai si rinnova da più di 10 anni a Premosello domenica scorsa si è svolta la giornata ecologica che ha visto la partecipazione di oltre 140 persone che armate di sacchi guanti e olio di gomito hanno ripulito aree verdi in campagna il bosco tenso le scarpate delle provinciali da Vogonia fino a Nibio e a Migiandone tanti cittadini che per un giorno si sono impegnati per l'ambiente e per il loro paese e poi i volontari dell'AIB del gruppo Alpini della locale delegazione della Croce Rossa della protezione civile c'erano molti genitori con i loro bambini che dalle 11.30 alle 12.30 hanno assistito ad un'istruttiva lezione sulla gestione della spazzatura domestica e sulla raccolta differenziata da parte del direttore del consorzio rifiuti Roberto Righetti il gruppo muratori ha offerto i guanti da lavoro dopo la fatica finita la raccolta tutti in palestra per il pranzo offerto dall'amministrazione comunale e preparato dalle bravissime volontarie della protezione civile e della CRI anche i camerieri erano tutti volontari dei vari gruppi tra loro diversi consiglieri comunali dal sindaco Giuseppe Monti un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile la bella giornata e hanno lavorato per ripulire le aree periferiche del comune dai rifiuti abbandonati dai soliti incivili di turno il primo cittadino ha parlato di una manifestazione che cresce ogni anno sintomo di un tema quello della tutela dell'ambiente sentito sia a Premosello che nelle sue frazioni consegna degli attestati per i comuni della riserva Mabunesco nel corso di una crociera sul lago Maggiore a bordo del piroscafo Piemonte ci racconta tutto Franco Filippetto si è tenuta venerdì 15 marzo la consegna degli attestati di riconoscimento ai sindaci e ai rappresentanti degli enti della riserva Mab Unesco Ticino Val Grande Verbano 80 i comuni rappresentati dal Novarese al Verbano alla Val Grande la cerimonia si è tenuta a bordo del piroscafo Piemonte della navigazione Lago Maggiore durante il tour sul lago spiega David Guenzi presidente della riserva Mab Ticino Val Grande Verbano a seguito dell'avvenuto riconoscimento da parte dell'UNESCO della nostra riserva Man e Biosfere abbiamo voluto far partecipi i sindaci e i rappresentanti degli enti locali coinvolti e consegnare loro l'attestato Adriano Fontaneto presidente del parco del Ticino e del Lago Maggiore ha affermato l'impegno del parco è di difendere i valori paesaggistici e naturali dobbiamo consegnare le chiavi dell'ambiente intatto ai giovani che verranno in futuro Massimo Bocci presidente del parco Val Grande ha aggiunto questo ente unisce un grande territorio che ha in comune la qualità dell'acqua dobbiamo salvaguardare le peculiarità come la gastronomia l'agricoltura il turismo e le persone che ci vivono e lo frequentano il presidente dell'istretto turistico dei laghi del Valle dell'Ossola Oreste Pastore ha focalizzato l'attenzione sulla ricettività il turista venendo nei nostri territori cerca attrattive sempre più nuove e naturali in apertura in apertura di pagina sportiva gli sport invernali con lo sci alpinismo e la quarta edizione della Rosa Ski Raid vittoria di Pasini in campo maschile e della statunitense Anderson tra le donne lo spettacolo non è mancato la quarta edizione della Rosa Ski Raid ha confermato la valenza di una gara sempre più protagonista nel calendario internazionale con la presenza al via di tanti fuoriclassi di questa affascinante disciplina che fa sentire gli atleti nonostante la fatica un unicom con la neve e le vette circostanti le condizioni meteo dei giorni precedenti con forte vento e neve fresca hanno spinto gli organizzatori ad una modifica del percorso cancellando l'ascesa al colletto del pizzo bianco partenza dal bulchi e poi acido lattico a fare da compagno di viaggio per 15 chilometri e 600 metri con tanta salita e la discesa con traguardo in paese la gara maschile è stata davvero appassionante il giovane valdostano Harry Aimonò ha fatto da lepre andandosene in salita e mantenendo un buon margine in discesa un errore al cambio ha però pregiudicato la sua vittoria favorendo i due compagni dell'esercito Fabio Pasini e Daniel Antonioli che lo hanno così superato successo dunque per Pasini in un'ora 50 minuti e 40 secondi con Antonioli ad una incollatura staccato di 2 secondi 8 decimi e Aimonò a 30 secondi quarta piazza per il cannobiese Cristian Minoggio a seguire per chiudere la top ten in campo maschile Mattia Lubotz Marzio Bondioli Mirko Pervanger Cristian Riccardi Giacomo Luvini e decimo Imerio Piana nella gara femminile trionfo della portacolori della nazionale USA Sierra Gail Anderson alle sue spalle si è piazzata Claudia Titolo terza la campionessa bugara Ivona Mihailova soddisfatti gli organizzatori che guardano già alla prossima edizione di una gara che come detto in apertura è sempre più un must nel calendario internazionale dello sci alpinismo e siamo alle anticipazioni della nuova puntata di Baschettando in onda questa sera alle 20.35 ancora domani mercoledì alle 13 e alle 17.30 puntata molto ricca quella di Baschettando quest'oggi da Gravellona insieme a noi ve li presento gli faccio fare un cenno Alessandro Bertoli preparatore atletico Lella Vega incontro Occhiari Gravellona il presidentissimo della Nobili Don Bosco Borgomanero Vittorio Pettinaroli ciao Vittorio ciao ragazzi entrambi pronti per i playoff del campionato di Serie D dove speriamo ci possono essere insieme alla Vega e alla Nobili anche la Poli Opposti Findomo dopodiché terzetto della Vinavici Pir il coach Massimiliano Milli ciao a tutti Iuri Dimitri e Riccardo Rovere non ci sono ospiti della Pafoni che quest'oggi in maniera straordinaria si allena proprio mentre registriamo coach un'altra sconfitta sul filo di lana sabato però è il D-Day speriamo che sia D-Day anche D-Di Domodossola D-Day esattamente peccato peccato perché abbiamo fatto una prestazione ho dato il titolo a Marinello ho dato il titolo a Marinello per il sito abbiamo fatto una bellissima partita negli episodi non siamo stati in grado di chiuderla prendiamo ciò che c'è di positivo e cerchiamo a Siena di dare tutto e di provare a vincerla per tenere vive le nostre speranze ci fermiamo per tutti gli aggiornamenti c'è il nostro sito internet www.tuttonotizie.info grazie per essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento con i nostri programmi grazie per la visione